Abbiamo il mister Pennacchio Dependorelli qui al termine dell'incontro di recupero con l'Atletico Gaeta 5 altri risultati, ma comunque è stata una gara giocata alla pari quasi Sì, certamente è stata un'ottima gara, i ragazzi hanno in un certo modo obbedito a quello che erano le nostre forze Praticamente questa era la forza che c'eravamo oggi perché parecchi erano infortunati dalla domenica di Terracina Però attenzione, tutto sommato la gara è andata bene e non si poteva prendere di più Dopotutto siamo terzi ultimi, Gaeta è prima, di più non si poteva fare Come giudica quella squadra di Gaeta? Una bella squadra, un bell'organico, una bella dirigenza, una squadra seguita Noi purtroppo a Ventotene siamo una piccola realtà, non possiamo competere con le grosse realtà del golf Per cui una partecipazione a questo campionato solo ha un grosso scopo sociale Per non restare proprio tagliati fuori dalla provincia nello sport E per divertirsi giustamente? Sì, diciamo siamo un po' come un gruppo amatoriale Com'è la prossima gara adesso? Guardi, la prossima gara dobbiamo disputarla a Ventotene Noi domenica riposiamo perché abbiamo il nostro turno di riposo E poi dovremmo affrontare il Vendicio Un'altra squadra del golfo, il Vendicio D'accordo, appuntamento alla vostra, grazie Grazie, arrivederci